Buonasera agli ascoltatori, la verità alle 7.00, il nostro consueto appuntamento di fine giornata per provare a mettere insieme i temi che realisticamente occuperanno le prime posizioni nella scaletta dei telegiornali di questa sera e che hanno forti chance di finire nelle prime pagine dei giornali di domani. Allora, mentre vi parliamo è ancora in corso la seduta del Senato sul MES, realisticamente però non c'è da immaginare sorprese dopo quello che è già accaduto alla Camera, dove a Montecitorio nella prima parte della giornata si è assistito allo stesso film, alla fine Conte dopo il suo discorsetto ha avuto un via libera da parte della sua maggioranza. Le cose però vanno un po' raccontate perché vedrete che poi giornali di domani, ritroscena, la verità stessa, vi racconteranno una serie di dettagli, qui vi anticipiamo qualcosa. Complessivamente la risoluzione del quadripartito di maggioranza alla Camera ha avuto 314 sì e 239 no e l'esito era purtroppo comunque scontato. Attenzione però perché poi nella votazione specifica sulla finalizzazione dell'accordo del MES, quindi diciamo su quello specifico punto su cui le forze di opposizione hanno insistito per vedere chi è che si assumeva esplicitamente in modo diretto la responsabilità di dire sì ad un'operazione tanto rischiosa per il Paese, la maggioranza ha perso per strada 17 voti e alla fine si è attestata su questo specifico punto su 297 sì, 17 in meno rispetto a quelli complessivamente raccattati sul resto della risoluzione e 256 contrari. Naturalmente vedrete che domani retroscena saranno puntati su un paio di realtà rispetto allo specifico del voto del MES. Per un verso i grillini che sono mancati all'appello sono stati soltanto 8 alla Camera più 3 ex grillini, mentre Occhio a Forza Italia dove, questo si sapeva, c'è una differenza tra il gruppo del Senato che è più allineato al resto del centrodestra e invece il gruppo della Camera dove c'era una componente diciamo più eurolirica, più pronunciata, che si è materializzata con Brunetta e Polverini che sono usciti dall'aula, ma pure altri 14 esponenti forse per una ragione o per l'altra attraverso i tavoli, questo dice l'analisi, non hanno partecipato al voto. Al Senato le votazioni devono ancora avvenire, sono ancora in corso le dichiarazioni di voto, ma insomma la scena più tragicomica dal punto di vista dei grillini si è verificata quando ha preso la parola Mario Monti elogiando i grillini, dicendo ecco per voi non era facile ma in questo passaggio e quindi anche diciamo l'elogio di Monti sul Mess e i grillini che piegano la testa è qualcosa francamente di eloquente su quello che accade e francamente tutti i bizantinismi grillini su votiamo per la riforma del Mess ma non per la sua attivazione sono francamente dei bizantinismi senza senso, tutti capiscono che nel momento in cui il meccanismo sarà approvato di per sé tu hai la divisione tra buoni e cattivi, paesi a debito basso, paesi a debito alto e noi rischiamo di alzare il cappio che ospiterà o potrà ospitare per primo il nostro collo. Quindi questo è il primo tema, ripeto poi nelle prossime decine di minuti comprenderemo se vi saranno aspetti significativi nella votazione al Senato. Per ciò che riguarda il Recovery Fund ci sono due elementi da considerare. Da un lato i renziani che alimentano il loro pressing o la loro gesticolazione a seconda del fatto che voi crediate o non crediate all'offensiva renziana con le due ministre, la Bonetti e la Bellanova, che hanno lasciato intendere una loro disponibilità a dimettersi nel caso in cui le cose non andassero come richiesto dal leader di Italia Via. Sta di fatto però che Conte ha rinviato anche oggi il Consiglio dei Ministri che avrebbe dovuto comunque sciogliere la questione della governance, del Recovery Plan. In fondo il Consiglio dei Ministri che è stato sospeso l'altra sera dopo quattro ore e nulla di fatto al momento dell'annuncio erano circa le 17 dell'altra sera della posizione del ministro Lamorgese non è stato più ripreso. Sembrava dovesse riprendere ieri alle 10, non è ripreso poi ieri alle 16, non è ripreso poi si pensava a questo pomeriggio, a questa sera e la cosa salta ancora da parte dei contiani si dice ma a questo punto meglio far decantare la situazione eccetera e poi comunque come potrei presentarmi in Europa con un Consiglio dei Ministri spaccato però si può anche far osservare ma come ti puoi presentare in Europa se non sei neanche stato in grado di convocare o concludere la convocazione di un Consiglio dei Ministri. La cosa più realistica è che Conte cercherà comunque di fare un passo laterale togliendo la norma sulla governance da un emendamento alla legge di bilancio e trasfondendola in un decreto legge a sé stante che quindi avrà i suoi 60 giorni di tempo per la conversione e la discussione parlamentare ma questo non eluderà il passaggio comunque di un rimpasto un minuto dopo la legge di bilancio quindi dopo Natale o dopo Capodanno lì si parlerà la nobilità di Renzi cioè se andrà fino in fondo come minaccia o se invece soltanto a muina per arrivare al rimpasto che una settimana fa gli era stato sostanzialmente negato. Naturalmente però la discussione non è ancora entrata nel merito di questi primi abbozzi di discussione su cosa dovrebbe fare l'Italia questa storia dei soli 9 miliardi per la sanità da parte degli stessi che per anni, per mesi almeno ci hanno fatto una testa così sulla necessità dei 37 miliardi del MES fa capire diciamo che allora e per molti mesi il dibattito pubblico è stato caratterizzato da un certo grado di insincerità. Diciamo l'unica buona notizia di oggi viene dai dati sanitari nelle 24 ore passate ci sono stati 118 mila tamponi i casi positivi posto che questo diciamo sia un dato particolarmente rilevante non lo è ma comunque è il dato che per primo viene dato è di 12.756 positivi i morti sono in calo 499 ma sono soprattutto in calo le terapie intensive per ormai è una settimana abbondante che c'è questo dato di calo che questa sera si materializza in un meno 25 e in questo momento le persone complessivamente in terapia intensiva sono 3320 allora di tutto questo parleremo domani mattina alla verità alle 7 sarà con me Francesco Galietti come ogni giovedì l'appuntamento però più importante della giornata è naturalmente quello in edicola per prendere la verità e per chi non l'avesse fatto oggi per prendere anche panorama perché da oggi è in edicola anche il settimanale noi ci ritroviamo lo ripeto domani mattina alle 7 con Francesco Galietti domani sera alle 19 sarà con me il vice direttore Martino Cervo buona serata a tutti